La gara, la manifestazione sarà così coordinata, divideremo la gara in tre alzate. La prima sarà lo squat, quindi una flessione sulle gambe col bilanciere che farà la flessione con la gamba, partiranno le donne con i pesi, con le categorie più piccole nella pedana B e poi avremo la distensione sulla panca che si svolgerà sempre tutto in questa sala qua. Abbiamo anche qui una campionessa molto forte, c'è una ragazza che è stata campionessa del mondo, abbiamo dei campioni a livello mondiale come Siracusa, Natalizia, dei grandi atleti e poi c'è lo stacco da terra che sono tre esercizi, lo stacco da terra si solleva il peso da terra e si porta su fino a qua, fino alla metà del busto. Il totale sarà calcolato nella somma del miglior atleta e quindi però abbiamo i juniors che fanno la tabella Svarts, sarebbe a dire che si fa il coefficiente del totale del peso sollevato moltiplicato con un numero di coefficiente, invece negli open e quindi negli assoluti si fa il totale del peso più grosso e vince quello che solleva di più. Gattivo! Provaci dai! Senti cosa crede! Come prima! Credici dai! Così, così, così! Bravo! Bravo! A proposito! Bravo! 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 Miro di Claude! L rose! L'ercissa! ... Grazie a tutti. 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 Quindi siamo al 150 per l'atleta Andrea Brugnone. Grazie a tutti. 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 1, 2, 1, 3 Prova, prova, prova Su, fermo Dai, 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 dai Dai, 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 dai Dopo di lui sarà la vostra scelta Gisette Giurini. Vai a vedere! Cattivo! Vai! 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 Down! Mettici! Down! Uff! Down! Uff! Uff! La rete! Dua venti! Vi lanciano due venti! Vai! Vai! Tu! 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 Vai! 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 Falli col cuore! Falli perché tu... tu sai perché le devi fare, vai! Vai! Così! Down! Dicchiere! Dicchiere! Vai! Vai! Go! 25! Down! Falli... Falli bene, dai! Spingi a terra, spingi, 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 spingi! Chiudi! Down! Dai Corrado, falli per me, vai! Provaci a me, dai! Provaci, dai, su! C'è una macchina! Un bulldozer! Vai Corrado! Vai Corrado! Vai Corrado! Giù! Bravo! Provaci, dai! Senti cosa crede! Come prima! Credici, dai! Così, così, così! Vai! Mai! Mai suez cooks! Pa, domani... Giù! Fini... Ho la Palm... Ordine, la granurtina, d' anch'iós... forg فedadamia... Doi per me, dai, ai, ai 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 Grazie a tutti.